è Isola dei Famosi, quello ho fatto io, dove c'è lo psichiatra finto marcio dalla parte dell'oro, quindi Rema ho la sua esperienza a non gliene frega un cazzo se stai male, anzi perché è quello che vogliano, a regolarizzare per otterrarti sempre sull'orlo dell'esplosione perché così fa spettacolo, che comunque sia da spettatore, io mi diverto a guardare quei programmi solo, se litigano, se piangano, se soffrano, se no cazzo non è un po' come ed è una macchina tutta costruita per quelle cose lì